Quarta edizione memorabile per la K2 Valtellina che si è corsa sabato a Talamona, livello sempre più alto dei concorrenti e un meteo che ha permesso agli oltre 200 di correre in condizioni quasi ottimali. Grande vittoria per Roberto De Lorenzi in campo maschile con un tempo di 1 ora 18 minuti e 43 secondi. Alle spalle di De Lorenzi sul podio sono saliti gli azzurri di Schialp, Alex Oberbacher e Matteo Eidalin, quarto posto per Michele Boscacci ma resta del campione di Albosaggia il record sul percorso. Mi sentivo in forma, è andato davvero bene, siamo partiti abbastanza decisi, sono stato bene fino dall'inizio e alla fine sono riuscito ad allungare un pochettino su Alex che abbiamo praticamente fatto tutta la gara assieme. Sì, ce l'ho fatta vincere, sono davvero molto contento, inizio di stagione non il top per me ma con la vittoria di oggi sono davvero contento. Al femminile la campionessa in carica Camilla Magliano non cede il trono, la piemontese del Team Salomon fissa anche il nuovo crono da battere sui 2000 metri di dislivello positivo che dal centro di Talamona portano sulla vetta panoramica del Monte Pisello, un'ora 33 minuti e 20 secondi il suo tempo. Al secondo posto l'azzurra di Schialp Giulia Murada, terza Barbara Sangalli. Per me è il secondo anno che partecipo al K2 e ci tenevo tantissimo a far bene perché l'anno scorso ho fatto il record e ci tenevo molto a fare una buona gara. Sì, ho abbassato il record di tre minuti e sono veramente soddisfatta e diciamo che sono sempre stata prima e sapevo che Giulia era dietro ma non si è mai avvicinata quindi sono stata abbastanza tranquilla. E niente, è stata proprio una bella gara e io la consiglio sempre a tutti questa gara. Nel pomeriggio si sono svolte le premiazioni che hanno dato il via ad un terzo tempo che ha aperto la manifestazione a tutta la popolazione con iniziative di intrattenimento e tanta festa. La K2 Valtellina SD, nuova associazione organizzatrice che nasce dal team consolidato di amici che hanno dato vita alle prime tre edizioni della gara, archivia anche questa quarta edizione con successo.